Ieri c'è stata una visita importante a Roma per quanto riguarda le ciliegie, un problema che piano piano sta scomparendo anche dalle cronache, immaginiamo anche il motivo, però il problema comunque resta, quali garanzie ci sono, di cosa si è discusso in particolare a Roma, se ci sono state anche delle occasioni di incontro con importanti esponenti della politica nazionale rispetto a questo problema. Allora, ieri c'è stato questo incontro al Senato, promosso dai senatori del Pdl, D'Ambro Svettieri e Amorufo Mazzaracchio, che tra l'altro fa parte della Commissione Agricoltura del Parlamento, del Senato, per chiaramente ulteriormente dare l'input anche al Governo nazionale per sensibilizzare tutti quanti, tutte le istituzioni e l'interesse per questo trecissimo problema che ha colpito questo distretto del territorio del sud-est barese. La cosa importante è che chiaramente noi stiamo andando avanti, il 7 giugno c'è stato questo, presso i comuni di Turi, questo secondo tavolo tecnico che ritengo essere stato il vero punto di partenza per questo tipo di problema perché oltre tutti i componenti che avevano fatto parte del primo e quindi tutti i 6 sindaci dei 6 comuni colpiti, le parti sindacali, le associazioni, di categoria, i produttori, ci siamo avvalsi di due esperti, sicuramente i più esperti che abbiamo qui in regione, il dottor Matteo Antonicelli, ex dirigente dell'assessorato all'agricoltura per quasi 30 anni e il dottor Di Pierro, attuale dirigente dell'assessorato all'agricoltura della provincia di Bari. In più hanno partecipato gli assessori all'attività economica, della floresta e all'agricoltura Caputo, quindi un tavolo tecnico importante, un tavolo tecnico che ha stilato alla fine un documento di proposta relativo a questo programma perché giustamente come dice c'era stato precedentemente seguito da me il primo documento che era stato approvato all'ordine del giorno dei consigli comunali. Questo intero documento che è venuto fuori il 7, ripeto, andrà all'attenzione dell'assessore Stefano, la persona che poi renderà, farà sintesi di tutto quel lavoro che abbiamo realizzato, ma abbiamo già avuto disponibilità massima da parte dell'assessore e quindi potremmo fare in modo che almeno quel poco che si potrà ottenere, perché non voglio chiaramente, come ho sempre fatto nella mia vita, illudere nessuno, ci sono chiaramente delle problematiche relative agli stadi di calamità che riguardano le assicurazioni, l'identificazione dei territori e quindi c'è una serie di problemi tecnici, però chiaramente tra i quattro punti che riguardano il credito agevolato, che riguardano la conferma nei territori, negli appezzamenti che sono stati danneggiati, la conferma delle giornate lavorative per i braccianti e la dilazione che abbiamo chiesto dei contributi INPS, dichiarare che questi tre punti fondamentali possono essere tre punti fondamentali.